Il clima è stata la prima partita dell'anno Credo che abbiamo vissuto veramente tanto dopo San Zeno all'andata Non ci aspettavamo sicuramente di andare sotto Anche viste le occasioni che abbiamo avuto inizio di partita Che il loro portiere è stato bravo a mantenere la sua porta inviolata Quando siamo andati sotto è stata una relazione importantissima Anche perché mancava non tantissimo Si è riusciti a fare due gol E c'è stata una prestazione importante da parte di tutti Invece a voi giocatori personalmente Cosa può lasciare un risultato così importante su questo campo difficile? Comunque contro una grande squadra A loro non sono male bisogna dirlo Noi abbiamo dimostrato di essere più forti Adesso ci avviciniamo sempre di più al nostro obiettivo E a noi questa partita deve lasciare Che per la prima volta nel giro di ritorno andiamo sotto Cosa che non è mai successa E siamo stati capaci di recuperare e andare anche avanti Quindi bravi a tutti i ragazzi Adesso mancano gli ultimi scalini Grazie Paolo Grazie a tutti i ragazzi Grazie a tutti i ragazzi